Abbiamo iniziato con Dante, siamo andati addirittura nei riti sciamanici nella musica per poi approdare all'intelligenza artificiale e concludere con Ennio Brunetta. Adesso abbiamo una relazione di Giovanna Serra, che prego di avvicinarsi, che è una relazione che parla di inclusività, in particolar modo di didattica inclusiva, è una testimonianza e ci parla di didattica inclusiva e quindi dei diritti anche fondamentali della persona. Prego. Vi lascio con questa testimonianza e poi concluderemo la giornata, la serata. Prego, grazie. Buonasera e ringrazio gli organizzatori e soprattutto Ennio Brunetta per questo graditissimo invito. Io non sono un medico, sono un avvocato, sono un musicista e mi chiedevo così, mentre ascoltavo i vostri interventi, come mai Ennio avesse invitato me in questo convegno, che effettivamente è tutto vostro, di medici, però forse stando lì seduta, lì dietro ad ascoltare e apprezzare moltissimo tutto quello che è stato detto sinora, ho capito forse il senso profondo di questo invito. E voi medici, in questo festival, in questo congresso, volete porre al centro la persona umana e i rapporti di umanità che ci devono essere tra esseri umani, tra medico e paziente. In fondo, la cura, che non si riduce solo appunto, come diceva il dottore che era intervenuto, a prescrivere il medicinale, a prescrivere un determinato intervento, ma a guardare chi è la persona che si ha davanti e come curarlo in senso completo e totale. Ecco, il mio punto di vista riguarderà lo stesso la cura, ma non nei confronti di un malato, bensì nei confronti di bambini, di ragazzi, perché la mia esperienza è quella di un avvocato che essendo musicista ha scelto di insegnare, anziché materie giuridiche ed economiche, per le quali avevo fatto il concorso e quindi avevo iniziato a lavorare, ho scelto di insegnare pianoforte nei percorsi ad indirizzo musicale e in un'età molto importante, che è quella che va dai 10 ai 13 anni, ai 14, nell'età della scuola secondaria di primo grado. È un'età fondamentale perché il rapporto con i ragazzini di quell'età è un rapporto che ti dà la possibilità di sperimentare quello che io avevo interesse a sperimentare e quello per cui mi volevo mettere in gioco. Il titolo della relazione che Ennio mi ha affidato stasera, che io ringrazio, è quello di chiedersi se la musica si sente con l'orecchio. Ecco, siete tutti medici e chiaramente in modo scientifico direte che è chiaro che l'organo, il complesso di tutte le parti dell'organo uditivo sono fondamentali per parlare di sentire, di suono, di suono che si percepisce. Però effettivamente gli esempi dati anche da voi stessi medici, che avete parlato di strumenti primitivi, bellissimi, vorrò venire al museo del dottore che proprio ci ha affascinati, e quindi hanno fatto riferimento a qualcosa che va al di là degli organi uditivi. Perché la musica comunque non è data solo da suoni, il ritmo esiste anche in assenza di suono. Primo paradigma. Secondo paradigma, il silenzio, il silenzio più assoluto, che è quello che è proprio di chi non è udente, no? Perché chi non sente, chi ha una patologia all'orecchio, non sente. Ebbene il silenzio. Per i musicisti il silenzio acquista il carattere fondamentale che acquistano le note, i suoni. Non esiste un brano musicale che non contenga in sé il silenzio. E il silenzio in musica, nella musica, diciamo, codificata, è rappresentato dalle pause. Dunque, secondo paradigma. Terzo paradigma. Esiste una musica che oltre a quella della cellula, famosissima musica della cellula per la quale Ennio ci ha invitati a tanti altri incontri veramente graditi nei quali abbiamo avuto la possibilità di incontrare coloro che sono stati i medici, gli scienziati, che hanno approfondito questa musica della cellula. Credo che la musica, dal punto di vista medico e scientifico, sia insita nell'organismo. Non solo nella cellula, ma negli organi. Basta pensare al cuore, no? Per tutti voi che siete medici. Come dire che il cuore non ha una musica? Voi medici misurate la frequenza cardiaca. E così, oltre al battito del cuore, per esempio un vagito di un neonato che nasce. Ecco, quindi siamo giunti al terzo paradigma. La musica non si sente solo con l'orecchio. Ma voi mi direte perché dobbiamo capire se la musica si sente solo con l'orecchio o si può fare in altro modo. Qui ci riallacciamo a rispetto della persona umana. Il rispetto che voi, in questo convegno, cercate di tenere alto nel rapporto con chi è malato. Il medico che guarda il malato col rispetto di una persona che non è solo malattia, ma è un mondo intero col quale il medico si vuole interfacciare, o meglio, i medici illuminati come voi. Perché chiaramente stiamo parlando, e mi sento onorata, di stare tra medici che sono anche medici artisti, medici che vanno al di là della loro competenza puramente specialistica come medici. Bene. Entriamo nel campo del rispetto della persona, ovvero dei diritti umani. E ci chiediamo, i diritti umani, carta costituzionale italiana, carta dei diritti europei, citano tutte, tutte le carte dei diritti, il diritto alla libera espressione e il diritto a poter conoscere, all'istruzione, ad imparare. E sorge quindi un interrogativo. Un bambino non udente ha diritto a studiare musica? Ecco. Purtroppo nel mondo occidentale, in Italia, ma anche in altri stati, questo diritto è riconosciuto solo se la buona volontà dei singoli operatori crede di dover approfondire. Altrimenti i nostri sistemi di istruzione, benché chiaramente a livello costituzionale abbiamo l'articolo 3, l'articolo 33, l'articolo 34, l'articolo 3, uguaglianza di tutti i cittadini, l'articolo 33, le arti e le scienze sono libere, l'articolo 34, la scuola è aperta a tutti. Ma di fatto non è così. Almeno per quanto riguarda tra le arti la musica, vi posso assicurare che lo studio di uno strumento musicale in Italia non è permesso a tutti. Perché per entrare a far parte di una classe, di indirizzo musicale, di un liceo musicale o di un conservatorio, abbiamo detto i tre gradi di istruzione, ci sono degli esami di ammissione. Ma sono esami di ammissione che non hanno a che fare, per esempio, con i test di medicina, dove comunque c'è una selezione ma sono migliaia quelli che sono ammessi. Noi abbiamo numeri ristrettissimi. Voi pensate che le scuole ad indirizzo musicale, le scuole medie ad indirizzo musicale, che sono diffuse in tutta una provincia, magari su oltre 100 scuole, 150 in solo 13, 14 comuni. E attenzione, non in tutto il comune, né in tutta la scuola, ma solo in una sezione della scuola designata. E ogni anno si fa un esamino, un esamino cosiddetto di ammissione. In questo esamino di ammissione per ogni strumento è permesso di studiare a non più di 5-6 allievi. Quindi, se noi parliamo della musica come diritto di ascoltare, diritto di partecipare alla musica in modo spontaneo, il diritto è garantito a tutti, perché tutti, anche andando a mare, ascoltiamo il fruscio delle onde. Andando in campagna sentiremo gli uccellini che cantano e quella è anche una musica. Il famoso vento che passa tra le canne, no, dottore? Che quindi ci ha mostrato lei tutti i tipi di flauti. Ma se noi parliamo invece di una musica codificata, cioè della musica che va imparata per essere eseguita, questo diritto non è garantito a tutti, neppure in Italia. Se non è garantito a tutti, immaginiamoci come poi che poi possa essere garantito a delle persone come i non udenti o come i diversamente abili che hanno dei problemi seri di salute. Questi sono proprio esclusi. io sono onorata di poter insegnare in una scuola, in un paese, in un piccolo paese, Calimera, dove abbiamo la fortuna nell'istituto comprensivo di avere non solo una dirigente molto illuminata, ma una serie di colleghi che sono colleghi bravissimi, sono dei concertisti, sono delle persone che si spendono in campo musicale a 360 gradi non disdegnando di insegnare a dei bambini piccoli. E per cui portiamo avanti questa nostra voglia di includere tutti. In che senso? E qui veniamo alla didattica di tipo inclusivo. quando a noi ci viene presentato nell'esamino un bambino che comporta certi determinati problemi potremmo tranquillamente escluderlo perché lì ci sono delle prove da fare e quindi non ha superato le prove e lo si dice a gente ma non può farlo non sente oppure guarda che manina a me è capitata una bambina che era di questa grandezza qui non poteva crescere di più aveva una malattia rarissima per cui era molto malata poteva anche infettarsi qualunque malattia perché aveva difese immunitarie bassissime non cresceva più di questa dimensione pur avendo il cranio la testa di dimensioni normali ma il corpo non cresceva e la manina era piccolina così come una manina di un bambino di due anni e io quella bambina l'ho presa a pianoforte l'ho presa a pianoforte ho avuto il piacere che la madre i genitori che non potevano portarla a scuola perché poteva infettarsi di tutto e di più la portavano il pomeriggio a pianoforte perché noi facciamo lezioni individuali e me la portava me la sedeva con uno sgabbello particolare quella bambina è arrivata in terza media suonato con l'orchestra suonato un pezzo di mozart abbiamo avuto altri casi di bambini molto disagiati e ultimamente ho avuto il piacere di poter avere una ragazza adesso una bellissima signorina che aveva problemi di udito e quindi chiaramente io fui avvisata dalla dirigente che in occasione di questo esamino questa bambina era dispiaciutissima devo chiudere perfetto e va bene allora finisco dicendo questo la musica non è né buona né cattiva non c'è musica bella o musica brutta la musica come mezzo di comunicazione serve a trasmettere delle emozioni ma non solo questo questo è il potere della musica che si fa la musica però si ascolta e si ascolta anche in un modo che comunque è sempre attivo la differenza con altri vettori è che la musica sia quella che si fa è un vettore positivo e sia quella che si ascolta è un vettore positivo l'unico l'unico non chiamato vettore ma fattore negativo o occlusivo della musica è la musica che si subisce che cosa voglio dire noi per musica intendiamo tutto e abbiamo avuto il bravissimo professore che sono contenta di aver conosciuto in questa occasione l'ingegnere che ci ha parlato di musica elettronica ci ha fatto sentire anche degli esperimenti eccetera e può testimoniare come nella musica contemporanea si cerca anche di riprodurre in modo artificiale in modo elettronico in modo computerizzato dei suoni che non sono della musica normale classica jazz pop codificata bene sino al rumore sino al rumore perché oggi come oggi non esiste più la differenza tra suono buono e rumore l'unico fattore negativo è quella della musica che si subisce per la musica che invece è un vettore attivo io sono del parere che possa essere un aiuto per tutti non solo per chi la fa per chi l'ascolta e dovrebbe essere riconosciuto a tutti la possibilità di accedere ringrazio Ennio Brunetta faccio i complimenti a tutti i medici di questo convegno siete dei medici fantastici e a proposito dell'intervento del vostro collega io devo dire che sono veramente spaventata da quello che ha detto però comprendo anche il senso del suo intervento perché quello che lui ha detto della sanità succede anche nell'istruzione pubblica guardate allora io capisco che gli altri colleghi hanno voluto incoraggiare dire facciamolo noi in prima persona ve l'ho detto in quella scuola io e i miei colleghi lo facciamo in prima persona ma forse il dottore voleva parlare di una deriva nella quale ci troveremo non per scelta dei medici o degli insegnanti o dei giuristi ma in una deriva pericolosissima che potrebbe essere indotta da chi sta nelle stanze dei bottoni ovvero dei politici che non sono né medici né giuristi né docenti e quindi siete veramente stimabili tutti voi io spero che questo convegno abbia una risonanza veramente alta grazie arrivederci grazie davvero scusateci ma siamo un pochino siamo arrivati sono fatte le 7.20 e quindi siamo qui dalle 4 da stamattina abbiamo dei tempi tecnici anche da dover rispettare e dei tempi anche fisiologici per ognuno di noi concludiamo la giornata di oggi con un po' di sax parti poco poco così ci mettiamo in pratica quello che ci siamo detti finora senza bisogno di ripeterlo con altre parole però vi voglio voglio leggere una cosa per fare un omaggio a una persona che forse è rimasto un pochino male prima e quindi leggo questa cosa per lui era un fuori programma e lui non lo sa una gran bella donna che sempre mi ha fatto impazzire e che non ho mai posseduto si chiama medicina l'ho corteggiata di giorno e di notte ma proprio quando pensavo di averla posseduta proprio allora mi sono reso conto di aver fallito ero sicura che l'ero simpatico e che tutto sommato le piacevo ma era vezzosa frizzante apparentemente facile da conquistare ma all'improvviso mi lasciava di stucco e tutto ricominciava ogni volta in modo diverso e non usuale vinceva sempre lei fare il medico o essere medico era questo che mi sussurrava nell'orecchio quando un musicista jazz si lancia in un assolo esprime il suo stato d'animo di quel momento egli deve mettere insieme il ritmo che è la componente matematica della musica e l'armonia che è la fisica del suono per sovrapporre in modo estemporaneo il suo pensiero assolutamente libero e creativo essere medico allora significa rispettare con grande rigore il sapere appreso dallo studio fatto in ambito universitario e dall'aggiornamento quotidiano ma significa anche confrontarsi con il mondo emotivo del singolo paziente unico nel suo essere in divenire per molti anni ascoltavo riflettevo ma non capivo l'essenza del discorso dopo alcuni decenni di giochetti amorosi con lei di medicina ho capito cosa voleva dire lo stato ti dà la qualifica di medico il riconoscimento che sei medico lo devi ricevere dal paziente bisogna saper ascoltare la musica del paziente e di tutti coloro che operano per lui Ennio Brunetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti